Sono Camilla Seibezzi e sono candidata al Parlamento Europeo con l'altra Europa con Tsipras nel Collegio Nord-Est, perché siano i diritti in Europa a guidare le politiche economiche e non le speculazioni finanziarie, perché non tutto ha un prezzo. Il diritto al lavoro, il diritto alla sanità pubblica e pari diritti per coppie di fatto omosessuali e transessuali sono ciò che indicano il grado di civiltà di un Paese e noi vogliamo questo per un'Europa Unita.